Un saluto a tutti cari amici e benvenuti sul mio canale. Per prima cosa voglio ringraziare Eugenio, nuovo abbonato alle mie video lezioni, che trovate sempre qui sul canale in una playlist dedicata. Prima del video di oggi voglio parlarvi di un torneo di scacchi che si svolge qui in Italia e in Sicilia, nella bellissima Messina. Spesso negli anni scorsi mi dispiaceva un po' che non ci fossero tanti tornei ben organizzati anche nel nostro paese e quindi mi fa veramente piacere collaborare con gli organizzatori. Il 14esimo torneo Codocan, città di Messina, porta della Sicilia, si svolgerà dal 5 al 9 gennaio a Messina in una sede eccezionale. L'hotel Resort Capo Peloro, una struttura a 4 stelle, con accoglienza a 5 stelle e per l'occasione dei prezzi a 3 stelle, con l'aggiunta inclusa della pensione completa. Quindi una sistemazione eccezionale che può essere anche l'occasione di passare qualche giorno di vacanza con le famiglie e di giocare un torneo a tempo lungo con 7 turni suddivisi in 5 giorni. Il torneo racchiude 3 tornei open, l'open C per giocatori con ello inferiore ai 1.500, l'open B con ello inferiore ai 1.850 ed il torneo A con ello superiore ai 1.850 punti. Anche il monte premi è da tenere in considerazione, un monte premi totale di 3.750 euro, che naturalmente va suddiviso tra i 3 open, composto da 2.750 euro di premi in denaro e 1.000 euro in prodotti tipici, gadgets e buoni acquisto. Per farvi solo un esempio, io non mi ricordo di un torneo C dove il vincitore abbia mai ricevuto, come in questo caso, 100 euro in denaro, più la coppa, più un cestino di prodotti tipici. Per chi è interessato vi lascio il link in descrizione sotto al video, il link alla pagina Vesus dalla quale potete sia iscrivervi al torneo che scaricare la brochure con tutte le informazioni sul torneo stesso e sull'accoglienza. Ritorniamo adesso ai campionati europei dove un giocatore, Firuja, con una serie di vittorie impressionanti, ha raggiunto un traguardo enorme. A 18 anni ha superato il muro dei 2.800 punti ello. Vediamo insieme la sua partita contro Mamediarov giocata ieri all'ultimo turno. Partiamo! Firuja di bianco apre la partita con E4, Mamediarov risponde con E5. Cavallo in F3, cavallo in C6, alfiere in C4, siamo nel gioco piano. Alfiera in C5, linea principale, arrocco corto invece della più giocata C3, cavallo F6 attacca il pedone, Firuja lo difende con D3. Allora H6 a controllare la casa G5, arriva C3, D6 proteggendo il pedone centrale libera il cavallo dalla difesa della casa E5, torre in E1. Arrocco corto anche per il nero, ora di solito il bianco inizia la classica manovra per portare il cavallo sul lato di re e invece Firuja gioca H3. Ora sappiamo che anche il nero prima o poi vorrà portare il cavallo sul lato di re perché vedete anche se il cavallo è sulla sua casa iniziale migliore, questa C6, non ha case offensive sulle quali spostarsi. Non si può neanche attaccare con successo questo alfiere perché a parte qualche rischio di tatticismo, l'alfiere può semplicemente riportarsi indietro e quindi prima di iniziare questa manovra di solito il nero vuole sistemare il problema dell'alfiere e qual è il problema? Vuole aprirgli una via di uscita. Allora per questo motivo Mamediarov gioca A5, libera la casa A7 per l'alfiere Camposcuro, guadagna anche spazio sul lato di donna. Allora Firuja inizia la manovra di cavallo, cavallo in B che va in D2, Mamediarov però attacca l'alfiere Campochiaro. Si può tranquillamente giocare alfiere in B5 e con l'idea poi di riportarlo indietro sappiamo che sono posizioni dove il bianco appare schiacciato ma in realtà ha un'energia potenziale enorme il suo setup, Firuja invece cambia in E6. Alfiere per Alfiere in E6 il pedone ricattura, il pedone ha catturato verso il centro, si c'è un danno alla struttura pedonale, attenzione però perché il nero può esercitare una forte pressione sulla colonna F. Allora Firuja cambia piano, cavallo in B3 attacca l'alfiere, di solito questo alfiere viene portato in B6 e invece qui arriva la novità di Mamediarov, alfiere in A7. Comunque una novità che rende alla mossa 11 la partita originale ma che non cambia di moltissimo questa posizione. Allora alfiere in E3, subito contro questo alfiere forte del nero, alfiere per alfiere, Firuja non vuole sciupare la struttura, ricattura di torre, torre cattura in E3. Arriva anche a 4, l'alfiere sotto attacco si riporta in D2 ed è Mamediarov a spingere per primo al centro. D5 cosa minaccia? Minaccia D4 e poi con tempo, allora Firuja torna indietro con la torre in E2, D4 rimane una mossa forte ma dopo il cambio si perde il controllo di questo pedone su un possibile forte avamposto in F4. Quindi per questo motivo Mamediarov spinge in B5, allora è Firuja che cambia, il pedone cattura. Adesso attenzione perché sarebbe naturale riprendere col pedone ma poi si perde il pedone centrale senza nessun compenso. Allora Mamediarov è costretto a catturare col cavallo, adesso il bianco può ancora vincere il pedone ma questa cattura porta delle complicazioni. Vediamo infatti che succede, dopo che il cavallo vince il pedone in E5 non giocata da Firuja, il cavallo ricattura, la torre si riprende il pezzo, arriva a 3. Vedete che si attacca il difensore del pedone in C3, in caso di ennesima cattura, torre cattura in E6, è possibile qui catturare subito ma c'è qualcosa di più forte. Andiamo a vedere perché questa cattura A per B2 non funziona così bene, perché torre in B1, il cavallo dà la forchetta ma qui c'è donna in B3 che minaccia una scoperta terribile e quindi il bianco sta meglio. Allora dopo questa ennesima cattura è più forte andare a giocare cavallo in F4, attacca il pedone, attacca la torre, la torre è costretta a tornare indietro in E3, adesso A per B2, il pedone ricattura, torre cattura in A2 e il nero sta bene. Vi ho lasciato in descrizione anche altre possibilità sempre in questa variante dove il nero comunque sta benino. Ritorniamo a noi, quindi in questa posizione Firuja non guadagna il pedone centrale, blocca invece il pedone nero, gioca A3. Allora il cavallo si porta in F4, attacca la torre, con la donna attacca il pedone, torre in E3. Attenzione perché se si vince il pedone donna in E2 lascia il bianco in vantaggio. Allora non cattura giustamente, ma Meliarov gioca donna in E8. Probabilmente l'idea è quella di giocare donna in G6 e quindi attaccare la casa G2. Il bianco può continuare con la naturale cavallo in E4, che vedete andrebbe a chiudere la strada sulla colonna G e può anche fare delle brutte minacce saltando in C5. E invece Firuja gioca G3. Vedete, attacca il cavallo ma lascia il pedone in presa. Questa per il computer è l'idea più forte, naturalmente andava un po' calcolata. A cosa serve? Serve che adesso Mamediarov accetta il pedone, cavallo cattura in H3 con scacco, il re si porta in G2, cavallo sotto attacco deve ritornare indietro. Adesso cavallo per cavallo il pedone ricattura, è il nero ad avere un pedone di vantaggio ma comunque ha una pessima struttura pedonale. Allora donna in G4 attacca entrambi i pedoni, qui c'è la donna che ne difende uno. Donna in E7 non funzionerebbe, perché tanto arriva il cavallo in E4, oltretutto la donna è ancora più passiva di prima, in posizione troppo difensiva. Allora Mamediarov gioca torre in F5, difende il pedone con la torre, siamo arrivati ad un piccolo quizzino, più di natura strategica. Non c'è nessuna combinazione, è più un'idea di attacco futuro. Quindi mettete pure in pausa se volete e cosa giochereste al posto del bianco? Ritorniamo subito a noi. Torre in H1 non giocata da Firuja è particolarmente forte, non vince subito la partita, ma è forte perché il nero non riuscirà ad opporsi a questa torre bianca sulla colonna H aperta. Una colonna particolarmente importante, se il cavallo torna indietro in E7, donna in H3, per salvarsi il nero deve trovare l'edificio G4, altrimenti pian piano il bianco migliora la posizione ed è l'unico con vere chance di vittoria. Ritorniamo indietro. Invece dopo torre in F5 Firuja continua con lo sviluppo del cavallo, cavallo in F3, quindi un nuovo attacco sul pedone, donna in F7. Donna in F7, questa batteria donna torre inchioda il cavallo, ma questa inchiodatura pensate si potrebbe anche forzare. Firuja non gioca la cattura del cavallo, invece si poteva giocare, anche se lasciava il bianco con un piccolo vantaggio, ma niente di decisivo, perché anche dopo torre cattura in F2 il re si porta in G1, e attenzione, gli è rimasta la donna sotto attacco e la donna sta proteggendo la torre, minacciata dal re, non si può giocare donna in F6 perché arriva la forchetta di cavallo, non si può giocare donna in F8, se no arriva uno scacco terribile che porta al matto, guardate, e quindi dopo re in G1 bisogna cambiare le donne, quindi donna per donna, la torre che è rimasta sotto attacco è lei che deve ricatturare, quindi nero non può neanche rimigliorarsi la struttura pedonale, anzi perde il pedone in E6, torre in C8 e il bianco sta un po' meglio. Invece dopo donna in F7, Firuja gioca comunque l'ottima donna in E4, guardate, attacca il cavallo sospeso e dietro il cavallo c'è la torre sospesa, ma Mediarov gioca l'unica mossa forte, torre in F8 lascia il pezzo in presa, per adesso Firuja non lo cattura, gioca proprio quella mossa che dicevamo noi, torre in H1, torre in H1 inchioda la torre, perché se la torre si muove il nero prende scacco matto in H7, allora chiude questa possibilità, Mamediarov con G6, Firuja vince un pezzo. Mossa 26, siamo al nostro vero quizzone, qual è la mossa che tiene il nero in partita? Ritorniamo a noi, G4 giocata da Mamediarov si riprende il pezzo, è l'unica mossa buona perché il cavallo non si può spostare, guardate che succede se il cavallo si porta in H4, per esempio la torre cattura con scacco, re in G1, la torre si sposta e questa è partita vinta per il nero. Allora dopo G4, Firuja costretto a tornare indietro con re, re in G1, torre cattura, e qui si minaccia di continuare con l'attacco, quindi torre per torre, la donna ricattura, ma arriva all'intermedia, donna cattura in H6 con scacco, e qui non si può spostare il re perché se no alla fine si prende un'altra cattura con scacco, quindi Mamediarov costretto a tornare indietro con la donna in F7, donna per donna con scacco, la torre ricattura, materiale identico, però migliore struttura pedonale del bianco. Allora Firuja che cosa fa? Attacca subito il pedone debole, torre in H4, torre in D7, pedone che non può avanzare, torre per pedone, qui si può anche giocare il re in F7, torre per pedone, ma adesso con questa cattura, torre cattura in G6 con scacco, è Firuja che ha il pedone di vantaggio, il re si sposta in F7. Allora torre in C6 minaccia un altro pedone, torre in D2 attacca il pedone debole, quello arretrato, qui si può catturare subito, bella idea di Firuja, C4. Allora torre cattura in B2, ma Firuja cattura in C7 con scacco, re in E6, torre in C6 con scacco, vedete che il re con l'aiuto del pedone il bianco non lo fa avvicinare, allora il re si deve portare in F5, C per B5, torre in B3, ma Mamediarov vuole creare il pedone passato, arriva B6. torre che cattura in A3, B7, ma la torre se vuole fermare il pedone si deve spostare, e quindi non difenderà più il pedone in A4, torre in B3, torre in A6, fantastico Firuja che ha tolto al nero qualsiasi tipo di controgioco sul lato di donna, perché il lato di donna verrà completamente eliminato. Allora, torre per pedone, la torre che cattura in A4, fermiamoci qui, mossa 42 con un finale perfetto, il nero patta la partita, ma sappiamo quanto siano difficili i finali di torre pedoni, e quindi in pratica l'unico con possibilità di vittoria è il bianco. Allora, grande mossa di Mamediarov, E4, come mai è così bella? Perché il re stringe i pedoni bianchi e blocca la quarta traversa alla torre di Firuja, e quindi il bianco vuole attivare la torre, torre in A5 con scacco, re in F6, re in F1. Vuole attivare il re, Mamediarov con torre in B3, limiterà le possibilità di avanzare verso il centro del re bianco. Allora, il re si porta intanto in E2, torre in C3, vedete che continua ad evitare che il re possa avanzare, torre in A8, perché la torre vuole dare gli scacchi da dietro. Torre in B3, l'idea è sempre quella di non far entrare in gioco il re bianco, torre in F8 con scacco, re in E5, guardate Firuja cosa gioca, re in F1. Una mossa apparentemente innocua, che cela però una trappola terribile, tant'è vero che Mamediarov ci penserà 17 minuti per capire cosa fare. Dopo questa lunga attesa giocherà re in D4, che purtroppo è un errore. Guardiamo qual è la minaccia, infatti Firuja gioca re in G2, e la minaccia è quella poi con il re tagliato fuori, di far avanzare il pedone e di vincere la partita. Ritorniamo alla mossa prima dell'errore, e qui cosa doveva fare il nero? Doveva giocare torre in F3, e guardate che succede, se il bianco cambia le torri, anche col pedone di vantaggio non si vince più, ora qui naturalmente il nero ricattura, ci vuole tempo al re bianco per attivarsi, re in E1, re in E4, re in D2, re in D4, prende l'opposizione, il bianco non passa più. Qui non si può avanzare il pedone, oppure si può avanzare il pedone, ma non risolve, re in E4, re in C3, re in F4, re in D3, re cattura, re in E3, ora attenzione a non farlo catturare con l'opposizione, quindi re in F5 perderebbe la partita, come studiamo noi nelle nostre lezioni per abbonati sui finali, re in G5, re cattura, ma il nero gli prende l'opposizione, e questa è una patta teorica. Ritorniamo a questa torre in F3, che era la mossa che avrebbe salvato il nero, che succede se il bianco invece non cambia le torri? Torre in H8 sembra più che naturale, torre in F5, re in G2, ma di nuovo torre in F3, torre in E8 con scacco, il re si porta in D5, torre in G8 per aiutare il pedone ad avanzare, ma il re tranquillamente torna in E6, arriva G4, re in F7 attacca la torre, ora qui se la torre continua a spostarsi, il re l'attacca in continuazione, quindi torre in H8, torre in F4 attacca il pedone, il re si può portare in G3, ma di nuovo arriva torre in F3 con scacco. Ora se il re avanza, si perde F2, quindi il re bianco costretto a tornare indietro, re in G6, torre in G8 con scacco, re in F7, torre in H8, anche se il re cambia strada, G5, torre in F5, e poi il pedone purtroppo piano piano non si difenderà più, anche perché il pedone è inchiodato, quindi vedete se anche si sposta con scacco, il re catturando protegge la torre, quindi questa posizione non si vince più. Ma ritorniamo invece alla nostra partita, vediamo un po' come Firugia giocherà questo finale, allora re in G2, ora vedete che torre in F3 non c'è più, cioè il doppio controllo del bianco, che quindi rimarrebbe con due pedoni di vantaggio, allora torre in B7, re in H3, re in E5, G4, il pedone passato inizia la sua avanzata, ma Mediarov abbandona, abbandona perché vedete il re completamente tagliato fuori. Andiamo a giocare qualche altra mossa, torre in H7 con scacco non fa paura, perché il re si porta in G3, torre in G7, arriva lo scacco, torre in F5 con scacco, re in D4, re in F4, controllo totale della casa E3, il pedone continuerà piano piano ad avanzare, e la torre nera senza l'aiuto del suo re, non riuscirà assolutamente a fermarlo. Con questa vittoria Firugia non solo supera i 2800 punti, come vedete dalla classifica dei ratings live, ma diventa anche il numero 2 del mondo, quindi veramente, come dicevamo, un predestinato. Spero che la partita vi sia piaciuta, se vi è piaciuta non scordate il like, non scordate di iscrivervi al canale, e noi naturalmente ci vediamo domani con un nuovo video. A presto! Grazie a tutti!